Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui con un primo e ultimo video di cui parlerò del mio club, cioè il Club Tour che volevo fare, mi è stato anche detto da voi di farlo per cui vi accontento, è un video in cui vi faccio vedere praticamente tutti i giocatori che io ho nel club o comunque sia quelli più importanti, quelli più forti, quelli con l'overall più alto per intenderci dei vari livelli e quindi direi di partire subito parlando anche un po' dei giocatori facendo anche delle mini recensioni cercando i giocatori, quando vediamo i giocatori piccola precisazione, è da maggio, aprile che comunque non li vendo più i giocatori cioè li tengo nel club, mentre magari qualche giocatore IF o qualche giocatore forte che ho provato tanto tempo fa è già stato venduto da un bel pezzo comunque sia, non è importante, di ottimi giocatori nel club ci sono andiamo subito a scoprirli, intanto qui abbiamo un Messi che è quello che hanno regalato penso la EA Sports l'abbia regalato a tutti i possessori 5 partite, non l'ho ancora provato, non penso lo proverò, però vabbè Jackson Martinez, fortissimo, ho provato un po' di volte e qui tipo, beh, le partite non sono mie però, come potete vedere fa più gol che partite quindi è fortissimo poi abbiamo Glick che ho trovato, non ho mai usato l'ho trovato un po' di tempo fa comunque dalle statistiche sembra molto buono, peccato per la velocità stesso discorso di Bonucci, molto molto forte, però ha più velocità di Glick quindi sarà senza dubbio un ottimo centrale di difesa ho trovato anche De Jong che, sì, appunto, primo proprietario, non l'ho mai provato ma penso che proverò quando avrò un po' di tempo stesso discorso Maxwell che avevo trovato in un pack, in un video che forse vi ricorderete anche Icardi se non sbaglio avevo trovato, infatti sì e non l'ho ancora provato, tra l'altro lo devo provare al più presto perché da quanto ho sentito è davvero forte se mi consigliate di provarlo io lo farò al più presto magari vi porterò una squadra, fatemelo sapere nei commenti e poi anche Perin avevo trovato, ma non penso che proverò perché penso ci sia anche di meglio di Perin Rondon, provato e riprovato 4 partite, 5 gol e 3 assist, ottima media per un attaccante quindi vi consiglio anche lui di provare poi abbiamo Klein, vabbè lui è un ottimo terzino però vabbè, è diciamo un Walker un po' più costoso poi altro giocatore Fabianschi che avevo trovato un TT ne avevo trovati due se vi ricordate bene Sow l'ho usato tante volte negli squad builder 8 partite ho fatto con lui, comunque una buona media tanti assist a Joachim che non penso di utilizzare per ovvie ragioni Salvio che avevo usato e mi era abbastanza piaciuto questo giocatore quindi vi lo consiglio Pabon che vi ho portato nell'ultimo squad builder come del resto anche Cardona negli ultimi due Cruze che ha delle discrete statistiche ma sicuramente più da seconda punta o da trequartista ottime statistiche anche per Cialanoglu che vi avevo portato un po' di tempo fa e mi era piaciuto davvero tanto come giocatore tra l'altro mi aveva fatto 6 gol in 5 partite quindi pazzesco per un trequartista Arango, altro giocatore che mi era piaciuto da Dio 4 partite, 4 gol e 3 assist quindi parla chiaro poi qui vabbè abbiamo Mané che avevo trovato in un pacchetto leggendario spettacolare, molto forte Gert, Silver, If altro giocatore che mi era piaciuto tra l'altro l'avevo considerato se non sbaglio il Silver Ibrahimović e poi abbiamo Fabiana altro buon giocatore con 5 gol in 9 partite poi passiamo ai giocatori non in forma abbiamo Ribery che avevo trovato in un pack Schweinsteiger che avevo comprato ma comunque i prezzi sono bassi ultimamente Thiago Silva che avevo comprato all'epoca quindi prezzi molto alti però Thiago Silva è il miglior difensore probabilmente del gioco Lewandowski, grande attaccante Di Maria che avevo trovato in un pack infatti il primo proprietario non l'ho ancora provato tra l'altro dovrei farlo magari in una squadra con Icardi Toz fatemi sapere nei commenti Kompany vabbè un altro difensore molto forte che uso spesso Iaia Touré vabbè non si discute è il centrocampista più completo forse del gioco comunque uno dei più forti poi abbiamo tra i più importanti Boateng Tevez Yoris che uso spesso Goetze che forse non ho provato infatti Kroos vabbè questi giocatori li ho provati poco a parte Vidal Sanchez De Gea qualche volta poi il resto vabbè sono un po' di merda quindi andiamo magari a cercare qualche a vedere qualche argento proprio top oltre ai due che abbiamo già visto qui c'ho un Saco che è forte delle ottime statistiche per un argento Dyer pure però a Worklet che non mi piace però comunque è forte lo stesso poi di giocatori forti c'è Emre Chan che è veramente strepitoso Montero non è affatto male poi vediamo qui abbiamo Acosta che non lo so non mi ricordo Mariano un ottimo terzino la Biade è un ottimo trequartista poi per Otti non l'ho ancora provato sostanzialmente qui ci sono un sacco di giocatori perché io davvero gli argento e bronzo li compro ma non li vendo mai e quindi ne ho veramente tantissimi Klein è fortissimo vabbè anche la versione Toz Perera questo attaccante è mostruoso provatelo Neang è forte poi vediamo Manet questo vabbè chi se ne frega Baister è forte qui c'è un sacco ma un sacco di giocatori veramente che stiamo qui tre ore se dovessi continuare a farli vedere dovrei avere anche qualche Agbon Lahore comunque giocatori stracostosi andiamo a vedere qualche bronzo proprio per concludere al meglio o duro vabbè è un mostruoso è un mostro mostruoso poi abbiamo Jean-Baptiste ottimo difensore questo è forte tra l'altro è uscito If se non sbaglio questo è da provare assolutamente perché sarà mostruoso anche lui sacco uno degli attaccanti più forti del gioco poi abbiamo un sacco di giocatori che vabbè ho trovato nei pack Templeton fortissimo Mopei forte vi sento forte Lampson eccetera eccetera Gondorf Findlay così è mostruoso Winner vabbè la leggenda nostro giocatore top e poi vabbè un sacco di giocatori appunto ripeto stiamo qui fino a mezzanotte comunque raga questo era il mio club non vi faccio vedere ovviamente c'è tipo gli staff perché non ha senso e nemmeno le magliette cazzate varie comunque spero che il video vi sia piaciuto se avete qualche domanda o dubbio da chiedermi fatelo nei commenti vi risponderò come sempre vi invito a lasciare un bel like tra i cento mi piace uscirà un nuovo video e fatemi sapere nei commenti come vi è parso il mio club fatemi magari anche sapere qualche giocatore che avete voi top come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale pagina Facebook Twitter e Instagram tutti i link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella raga grazie a tutti